Senta, ieri Salvini ha detto che Renzi a Milano non è gradito. Salvini ha questo grande difetto che fa campagna elettorale su tutto, lucra su tutto, su qualsiasi cosa pur di fare un mezzo titolo di giornale. Cosa vuole che le dica? Lascio Salvini alle sue battute, tanto se le fa e se le dis fa da solo.